152 anni fa Roma veniva annessa al Regno d'Italia. Il 20 settembre 1870, nelle prime ore del mattino, l'artiglieria aveva già iniziato a bombardare la città, ma solo alle 9 iniziò ad aprirsi una vasta breccia ad appena 50 metri da Porta Pia, da cui partì l'assalto dei bersaglieri per la conquista di quella che un anno dopo diventerà la capitale d'Italia. Un evento che oggi, 20 settembre 2022, viene ricordato attraverso la cerimonia che si è tenuta sotto il monumento ai caduti della patria. Alla commemorazione hanno partecipato il vice sindaco Giovanni Minniti, lo storico Roberto Pizzi, la dottoressa Marcella Matelli e il direttore scientifico del Museo del Risorgimento Luciano Luciani. Il 20 settembre è una data a forte densità simbolica, sta a testimoniare del ritorno di Roma all'Italia e sta a testimoniare anche della fine del potere temporale dei papi, ovvero sia la velenosa miscela di politica e religione. Nel 1962 l'allora cardinale, non ancora papa, Giovanni Battista Montini, che poi sarà papa Paolo VI, in una visita al Campidoglio e Roma ebbe a dire che la fine del potere temporale dei papi era stata una benedizione anche per la Chiesa. Quindi mi sembra che è considerato il pulpito appunto da cui vennero queste parole mi sembrano fortemente significative. La cerimonia è poi proseguita con una visita al Museo del Risorgimento di Lucca, allo scoperta delle origini dello Stato italiano e delle proprie radici.